Alla fine Fabrizio Corona è capitolato. Che cosa è successo? Come saprete tutti è stato condannato anche in Cassazione a cinque anni di reclusione per quello che è stato definito un ricatto nei confronti di Treseguet. La storia molto semplicemente è questa. Lui ha fotografato, lui o chi per lui ha fotografato Treseguet in una nottata con una donna che non era la moglie, in una serata in cui chiaramente erano atteggiamenti un po' particolari, lo ha convocato Treseguet e si è fatto dare 25.000 euro per non far pubblicare le foto. Questo è stato definito dai giudici una forma di ricatto e per questo è stato condannato a cinque anni di reclusione di carcere. Ciò detto, sapete benissimo della sua fuga, praticamente lui tramite un conoscente, si è fatto prestare una Fiat 500, è passato per delle strade secondarie e è riuscito a raggiungere Lisbona in Portogallo. È stato però tradito dalla tecnologia perché tramite il GPS dell'antifurto dell'auto è stato molto semplice rintracciarlo già da sabato scorso, quindi il giorno dopo la fuga già sapevano dov'era. È stato arrestato, si è consegnata l'autorità, questo non si capisce bene. Alla fine la polizia dice che si è arreso quando lo hanno preso poi in una metropolitana. Qualche minuto prima è riuscito a fare una telefonata appunto di cui si ha la parte audio in cui dice che sta per consegnarsi alle autorità giudiziarie. Adesso è stata confermata l'estradizione, quindi domani Fabrizio Corona rientrerà in Italia. Quello che mi è sembrato un pochino strano è che Fabrizio Corona ha dichiarato di non essere fuggito ma di essere andato via dall'Italia perché turbato dalla sentenza ingiusta. Questo secondo me è fuggire, non ha un'altra definizione, c'è una parola sola per dire ciò che ha fatto, c'è fuggito, che la fuga sia poi giustificata. Questo è un altro discorso, però mi sembra un po' strano questo suo cavillare dirsi turbato dalla sentenza ingiusta per cui è andato via dall'Italia. Questo si chiama fuggire, non ha un altro termine. Lui teme per la sua vita nelle carceri italiane. Non capisco qual è stata questa sua fuga perché è andato in Portogallo, si è fatto arrestare in Portogallo, ma pensava che poi di scontare la pena è in Portogallo? Pensa che le carceri in Portogallo siano migliori di quelle italiane? Questo non lo so. Questo fa parte delle contraddizioni di quest'uomo che da una parte dell'Italia è odiato, da una parte è ammirato e da una parte ancora è anche addirittura amato. Io non sto qui a giudicare Fabrizio Corona né a dire se è un buono, se è un cattivo, se è un furbo, se è una vittima. Soltanto ho voluto un pochino mettere in evidenza quelle che sono le contraddizioni del personaggio. Sicuramente ne sentiremo parlare ancora. Grazie a tutti.